Per chiunque entrare nell'ILVA è impossibile se non autorizzato, identificato ed accompagnato, seguito a vista dai responsabili dell'azienda. Tranne i papi Paolo VI e Giovanni Paolo II, nessuno ha mai fatto eccezione a questa regola. Dunque, se di sabotaggio si è trattato, solo dall'interno può essere venuto. In realtà, nessuno sa bene cosa sia accaduto. Due valvole chiuse su quattro, dice l'ILVA, nelle condotte dell'acqua di raffreddamento. Chiuse come? Manualmente o elettronicamente? E chi aveva accesso al comando delle valvole? A che ora? In quale turno è accaduto? È pensabile che un addetto ai lavori, tecnico o d'operaio, possa aver fatto una cosa del genere sapendo di rischiare la propria vita e di fare una strage? L'ipotesi sembra veramente remota, a meno che, tra i lavoratori ILVA, non ci sia un infiltrato ed un ignoto aderente all'ISIS. Non è possibile, invece, che si sia trattato di un guasto o forse di un errore, una dimenticanza? Gli operai ai cancelli d'ingresso non commentano o sbrigativamente dicono, solo questo ci mancava. I sindacalisti sottolineano la gravità dell'accaduto, ribadendo le conseguenze gravissime che sarebbero potute esserci se non si fosse rimediato per tempo. La Procura sta indagando sulla base della denuncia dei dirigenti ILVA che non hanno dubbi, sabotaggio. Evidentemente c'è qualche elemento in più non ancora reso noto. Grazie. Grazie.